Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Allora, premessa, se mi vedete un attimo fatto è perché c'è un mal di occhi pazzesco e le luci mi stanno uccidendo. Quindi, pensate che abbassa un po' per solo muoio. Quindi, siamo qui con i premi della Weekend League, primo account. Intanto vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscritto al canale e attivate la campanellina. Se non lo fate vengo a cercare il picker. Ok, non lo trovo. Con il telecomando. Vi lascio un secondo a un giocatore che ho trovato ieri sera. Quindi, è emozionante. E ci ribecchiamo tra un secondo. Ok ragazzi, eccoci qua. Scusatemi se sono poco illuminato, ma è questo motivo che vi ho già detto. Come vedete, ho già aperto, per sbaglio, ieri sera il pick. E oltre appunto a Sanè che ho preso, c'era Kobel, che ho trovato tozzo come avete visto, e Fulkrug. Emozioni. Quindi, non chiedo tanto, ma vorrei almeno un Delict. Mi basterebbe. Per quanto sia il primo account, non è che è emozionante. C'è Sergio Ramos, Flashback e Van Dyke Totti. Però, non si sa mai trovare qualcuno. Vai. Nella speranza che non laghi la registrazione e si blocchi. Ah, così. Frank, che sì, grande. Vai. E a spastico. Sicuramente questi due saranno tot della Liga. Non si riesco ad alzare giusto una goccia, che mi vedete un po' di più, ma perderò di odiettrie. Vabbè. Dai, FIFA. Uno forte. Dai. Sempre gli stessi. Va bene. Prendiamo Fulkrug per la valutazione. Mamma mia. Ok, eccoci qua, ragazzi. Due giocatori e tantuno o più. Io non ce la faccio più neanche a vedere. Ho una congiuntivite ormai da una vita. No, abbasso un po' la luce, scusatemi. Ma non ce la faccio proprio. Chi è? Delaney. Madonna mia. Non riesco a vedere, ragazzi. Scusatemi se mi vedrete un po' più scuro, ma io se no non ci vedo. Vi lasciate un like, per favore, perché io non ci vedo più. Un altro giocatorio e tantuno o più. Vai, FIFA. Lo faccio solo per voi, eh. Niente. Ma va a quel paese, va? Next. Madonna mia. Un medico. Dai. 8 giocatori della Bundesliga. Un tozzo a me basta trovare. Dai. In questi pacchetti. Niente. Va bene. Vai. Giocatori rari. Dai, FIFA. Dai. Cos'è? Walkout. Belgio. CC. Fino a due giorni fa, dio santo, era a 97 tozze. Eh, butta via la palla, va. Pirla. Ma guarda questo. C'ho il titolo, FIFA mi trolla. Per fortuna che è scambiabile, perché ce l'avevo già. Ma l'avevo già trovato un giorno prima che uscisse i tozze. Pazzesco. Pazzesco. Pacchetto ultimo. Scusatemi se lag ogni tanto ci sono cose brutte su OBS, ma mi sta dando problemi a non finire. Non capisco che cacchio sia. Ah, ok. Deve vai? Va bene. Emozionante. C'è il pacco da 100.000 al più grande 84. Bene. Mamma mia, ragazzi. Scusate, è sempre lag, l'ho visto. Ok, due giocatori e 83 più. Dai, FIFA. Dai. Un toz. Dai. Niente. Cos'è? Brasile, DC, Diego Carlos. Va bene. Cos'è sotto? Radetzky. Next. Allora abbiamo ancora. 5,84 più. 5,85 più e il toz garantito. Pretenderei in questi tre pacchetti almeno due toz. Cioè, quel garantito è almeno uno ancora. Vai. Dai, FIFA. Dai. Dammi un toz. Ah, pensavo mi stava dando un altro De Bruyne, giuro. Bene, 86. La caca. Grande Lukaku. Però c'è il più grande Lukaku. Bene. Che già non ci vedi. Mamma mia. Mamma mia. Facciamo così. Apriamo prima il toz garantito e dopo chiudiamo con l'85 più. Così intanto si carica. Vai. Vediamo chi è. Chi sei, chi sei, chi sei, chi sei. Brasile. Non mi ricordo neanche se ce l'ho già. Vedete voi quelli. Mi pare di sì su sto account. No. Meglio. Forse ce l'avevo rosso. Non so, neanche me lo ricordo più. Vabbè. Talmente tanti giocatori in due account. Soprattutto c'ho altri mille problemi che l'ho a testa. Visto che non ci vedo più. Vabbè ragazzi. Con il lag di OBS. Penso che possiamo concluderci qua. Pacchetto 85 più. Vai che dopo vado a mettermi in altre gocce di colirio. Per se non ho il secondo account non lo faccio. E non è walk out. Pazzesco. Cioè non è niente. Ancora peggio. Vabbè ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Con il lag finale. Possiamo concludere qua il video. Scrivo. Vabbè. Va bene così. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo lasciate un like. Commenti, iscriviti al canale. E attivate la campanellina. Vi prego lasciate un like solo per me. Perché non ci vedo più. Seguitemi qua su Instagram. Qua su YouTube. Se volete su TikTok. E io non posso dirvi altro. Che non so quando. Non so come. E non so perché. Ma l'importante è dire. Non ci vedo più. No. Pingualè. Ciao. Mortacci tua FIFA. Grazie. 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 Grazie.